Al di là dell'emergenza pandemica, che ha richiesto un potenziamento del personale operatore sociosanitario per rispondere alle esigenze della struttura ospedaliera, il numero di operatori sociosanitari che il Policlinico Riuniti ha reclutato in totale per l'area medica è di 462, di cui 215 di ruolo e 247 assunti a tempo determinato in sovrannumero, cioè in misura superiore, per affrontare in maniera tempestiva le possibili criticità dell'ordinaria routine ospedaliera e a cui sarà rinnovato il contratto alla scadenza naturale o deciderne ex novo. È la risposta della Direzione Generale del Policlinico Riuniti di Foggia l'elamentele esposta dal collettivo infermieri autonomi, secondo cui gli infermieri nei reparti no covid al Policlinico Riuniti erano demanzionati svolgendo il lavoro degli os. La direzione del nosocomio ribadisce invece che anche dopo l'emergenza covid l'ospedale potrà contare sullo stesso numero di operatori sociosanitari. Inoltre per quanto riguarda l'area chirurgica spiegano ancora dalla Direzione il numero di os a disposizione del Policlinico in totale di 169, di cui 123 assunti a tempo indeterminato e 46 a tempo determinato. Per entrambe le aree da considerare che la maggior parte degli assunti sia stata assegnata prevalentemente a suo tempo nei reparti a vocazione covid e che ora con il crollo dei contagi ci sia una riorganizzazione dello stesso personale in reparti ordinari con turni e ferie garantite. Così stando le cose ribadiscono ancora dal Policlinico il totale generale degli os sale a 631.